buongiorno amici e amiche di nova news 24 non mancano i colpi di scena al grande fratello una notte insieme per mirko e perla i due sembrano ormai molto vicini lo avevamo già preannunciato e lui confessa tornerei insieme a te superato l'imbarazzo iniziale negli ultimi giorni mirko e perla sono sempre insieme non è finita qui perché i due dovevano anche passare una notte insieme dormendo nello stesso letto cerchiamo di capire cosa è successo ieri pomeriggio mirko e perla hanno ripercorso le loro storie parlando dei momenti più privati lui ha confessato con te è sempre stato amore ogni volta l'ho sempre detto a tutti se pensa alla parola donna penso a perla questa è la verità perché per me lo sei nel senso completo del termine è più di questo amici di nova news 24 cosa dovrebbe ascoltare una donna ma continuiamo la sera i jfine hanno giocato ad obbligo verità e mirko ha rivelato che l'unica con cui tornerebbe insieme proprio perla con la quale ovviamente dice chiaramente che c'è un'affinità particolare con quale delle mie ex tornerei insieme con perla se parlo di persona vi dico lei perché lei per me non è le altre è diversa come ve lo devo spiegare ma non è finita qui perché ovviamente a perle è toccato l'obbligo di dormire nel letto insieme a mirko lei ha tentato di rifiutarsi giocando la carta jolly con una recitazione degna dell'indimenticabile dell'edì ma è servito a poco stasera ovviamente si dorme insieme questo è stato il messaggio proprio ieri sera i due dovevano dormire insieme ma si sono portati avanti visto che hanno passato proprio la notte insieme già da prima della serata quindi i due sono stati praticamente tutta la sera appiccicati nel dubbio marco maddaloni ha chiarito che qualsiasi cosa succederà perla e mirka dovranno dormire insieme se domani sera dovesse entrare gli dico greta con tutto il bene ma mirko e perla dovevano dormire insieme eppure i due hanno passato tutta la serata insieme quindi a questo punto sembra proprio che siano molto molto vicini comunque domani potrebbe esserci un grandissimo rientro al grande fratello di greta questo si era detto ieri e proprio questa sera alfonso signorini potrebbe far entrare greta e far movimentare ancora di più quella che è la casa non sappiamo cosa ha riservato alfonso ai suoi geffini ma vi chiediamo cosa ne pensate del riavvicinamento se vi è piaciuto questo articolo mettete sempre il pollice in su e seguiteci su nova news 24